Ragazzi lì sotto casa mia c'è mercoledì sappiamo che mercoledì ha ucciso mano qui in questo mondo e purtroppo è che tipo l'avevamo trovato da quella parte mi pare quel percorso dove avevo ucciso mano e purtroppo adesso sta in casa mia perché io avevo bisogno di una casa perché dovevo posizionare tutte queste cose ed effettivamente ho anche bisogno di costruire un'altra stanza e secondo me mercoledì potrebbe seguirmi Io adesso non vorrei dire però ho anche paura di oddio è lì è lì avete visto ce l'ascia ok facciamo finta di non vederla facciamo così adesso entrerà probabilmente in casa quando entra io sarò ovviamente girato di spalle faccio finta di dover andare così la vediamo da dietro ok cioè la vediamo con la con l'f5 vediamo un attimo se entra ha spaccato la porta è perché c'ha un'ascia in mano mercoledì è tipo munita di ascia aiuto è armata di ascia ok sentite facciamo così Ma peraltro cosa sta facendo perché mi sta controllando le cose porca puzzarda ok sentite io vado sotto e facciamo finta di niente io devo solamente costruire questa stanzetta perché devo fare un deposito di tutte le mie cose io spero che non mi rubi niente anche perché se mi ruba tipo le cose che io ho sudato per averle veramente odierò per sempre mercoledì Ragazzi purtroppo mercoledì mi ha spaccato casa cioè purtroppo questa cosa mi offende molto da parte di mercoledì non doveva permettersi perché io sono bravo con lei ok e ok allora adesso però usiamo questi blocchi così almeno posso costruire la mia bellissima casa in vanilla Allora mercoledì è sempre dietro di me io ovviamente devo continuare a far finta di niente raga perché non è che posso farmi vedere da lei vedete si è sempre lì dietro di me accidenti a lei mannaggina porca puzzarda Cosa devo fare facciamo finta di non vederla non è qui no 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 non è qui non è qui non è qui non è assolutamente qui Ok facciamoci una bellissima ascia così almeno io posso fare un po' come lei no prendere anche la mia crafting table qua ok e metterla da questa parte Ok perfetto questi stone bricks li posso mettere qua perfetto è tutto quanto fatto allora mercoledì sta ancora qua no ok allora io direi di uscire ok la spiamo dalla torre Ora vediamo se c'è non c'è ok perfetto usciamo qua perfetto vedete qua mi ha pure spaccato parte del pavimento madonna raga quanto la odio Quanto cavolo la odio perché mi ha spaccato le cose poi le porte me le ha spaccate tutte adesso mi devo risistemare la casa per colpa sua capito cioè non va bene Guardate mi ha tolto tutte le cose tutto mi ha tolto non è giusto oh no mi sono craftato un sacco di legno raga vedete perché avevamo bisogno di caspita di Di così tante ceste le porte perché mi devo craftare le porte però adesso io mi chiedo che caspita è finita mercoledì scusatemi Io andrei a vederla un attimo perché Oh caspita mi sta mi sta dicendo di seguirla raga ok va bene va bene va bene andiamo A seguirla Perché mi ha lasciato tipo queste come se fossero tipo le briciole delle briciole da seguire però non ha senso raga perché cioè non sono stupido Però qua c'è un cavolo di percorso ah il mio braccio mi sono rotto il braccio in mezzo e faccio questi gesti del caso non fate questi gesti può far male Andiamo qua sotto oh qua si è aperto un nuovo percorso qua raga ho stra paura perché potrei morire se cado nella lava Infatti non cadiamo olè ok per fortuna madonna mia che ansia che mi fa venire questa cosa del percorso di lava Allora i creeper sono delle creature orribili per esplodere tipi di mob su minecraft Allora qua me lo scrivete voi nei commenti se avete voglia chi ha voglia Allora la redstone serve a fare circuiti e a fare macchinari strani su minecraft A cosa serve il diamante? Serve a farti l'armatura la spada le robe Si è aperto questo passaggio perché ho finito il quiz ok Andiamo qua sopra e facciamo questo parkour raga questo è difficile perché oh no oh no io con i parkour non sono bravissimo no Non posso piantare Sapete che non finiremo mai questo parkour vero cioè ne siete contatevoli Io adesso fallirò praticamente ok come non detto GTA 5 oh che bello Ci giocate GTA 5 sapete cosa è GTA 5 certo che lo sapete Penso che tutti lo sappiano la maggior parte comunque Personaggi storia allora i personaggi della storia sono Franklin O Michael e Trevor mi pare Online e beh GTA online che domanda è GTA 6 beh GTA 6 non è ancora uscito purtroppo Scrivetemi se avete visto diciamo i video di GTA 6 e i leak che erano usciti un po' di mesi fa Personaggi secondari Boh ma io che di GTA 6 cosa ne so Boh vabbè comunque ho finito Ok mi si è aperto questo percorso ora tecnicamente oh c'è l'ascensore per fortuna C'è mercoledì no 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 vai via brutta scorreggiona maiala scorreggiona vai no 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 scusami 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 me ne esco ciao Non posso uscirmene non voglio chiederle di no lo sto chiedendo di sposarmi Basta vai via oh perfetto perfetto l'ho fatto per fortuna Ok perfetto io me ne ritorno assolutamente in casa mia Adesso spero di non incontrare quella pazza di mercoledì perché mi sa che una volta che ha finito con me con Con mano di farla fuori adesso mi sa che vuole far fuori me è Lì sopra gli alberi raga Ma che caspita sta facendo Poi cos'è che sta guardando Il villaggio forse Sta guardando me Brutto 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 Via 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 Non voglio Non voglio togli questo ascensore Lo tolgo lo tolgo Così non può più scendere Non posso nemmeno io salire E scrivetemi nei commenti se volete che continuiamo Questa serie da pazzi Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video Ciao